No, non è un clickbait e non sto parlando di una gara su Velocidron, quindi sul simulatore. Effettivamente ho fatto una gara in cui i miei tempi vanno a confrontarsi con i tempi dei mostri dell'FPV Racing come MCK, Hyper, Neuker e anche con Joshua Bardwell che tutti conosciamo per i tutorial e le varie recensioni. Io sono Mattia e oggi vi parlerò del Multigp Global Qualifier. Multigp è una lega di gare FPV che è diffusa in tutto il mondo e che organizza un torneo, un campionato mondiale con la finale che si svolge solitamente in America. Per partecipare a questa finale c'è bisogno di qualificarsi e per qualificarsi loro organizzano un evento che deve essere accessibile praticamente a tutti in tutto il mondo senza magari rischiare di spendere i soldi per andare in America a fare la gara quando poi magari non si è ad un livello sufficientemente alto per giocarsi. E quindi organizzano questo evento in cui la stessa pista viene proposta in tutti i chapter, cioè in tutti i campi volo che sono associati in qualche modo al circuito Multigp e propongono la pista di qualifica nella quale ognuno fa il suo tempo e questo tempo viene messo in una classifica globale. Quest'anno i primi 150 entrano nella categoria Pro e possono partecipare e vincere quello che è l'evento mondiale di Multigp mentre se non sbaglio ce ne sono altri 100 che sono nella categoria diciamo di livello sport con un livello un po' più basso e più accessibile anche per chi magari non è proprio super allenato. Per la prima volta è stato possibile fare i qualifier anche nei campi italiani e i primi due campi italiani che sono entrati nel circuito Multigp sono il campo del Gacce a Castelfranco Emilia e il campo BFC di Giuseppe Rinaldi. Io ho partecipato all'evento del Gacce ma se dopo aver visto questo video volete mettervi alla prova e partecipare al Global Qualifier siete ancora in tempo perché l'evento al BFC non si è ancora svolto e vi lascio in descrizione il link per andare a vedere quando si svolge tutte le informazioni. Vi dicevo che il Global Qualifier si basa sul fatto che la stessa pista sia proposta in tutti i campi in tutti i chapter che aderiscono al sistema Multigp. La pista è stata scelta quest'anno tra varie proposte che sono state fatte da vari piloti che sono soliti creare piste ed è stata scelta con un sondaggio. La pista che ha vinto è disponibile anche su Velocidron e quindi la potete provare ed è una pista che a me è piaciuta molto e che tra quelle che erano proposte sicuramente era la migliore. Quando la pista viene scelta vengono stilate delle regole su come viene posizionato tutto il circuito in un terreno, le dimensioni che deve avere il terreno, la dimensione dei gate che devono essere regolamentari per il circuito Multigp e tutte le strutture che sono necessarie per fare la pista in modo che sia proprio esattamente la stessa in tutto il mondo. A riprova di ciò è che praticamente i tempi che si fanno sul simulatore sono molto molto simili a quelli che riuscite a fare poi nella realtà o almeno così è stato anche per me e la memoria muscolare che avevo acquisito allenandomi al simulatore è stata proprio propedeutica a fare un tempo decente già dalle prime ipo quindi effettivamente le misure sono quelle. La classifica viene aggiornata man mano che vengono fatti questi eventi global qualifier ma già ora si può avere un'idea se si riesce a rientrare nel 150 o comunque in che zona della classifica ci si va a posizionare. Per farvi capire un po' che differenze ci sono nei tempi vi dico che io ho concluso con un 44 che per il mio livello è più che buono quindi sono 106esimo al momento in classifica su 420 circa e sarei anche quindi classificato anche se difficilmente potrò sfruttare questa occasione. Ci sono però piloti italiani che si sono piazzati molto in alto ad esempio c'è Geek lui è al 16esimo posto in questo momento e ha fatto un 33 quindi mi ha dato ben 11 secondi che su una pista in cui si gira mediamente tra i 10 e i 15 secondi a giro è una buona cosa. C'è anche Charlie Morrie che si è qualificato molto in alto e al 22esimo posto e poi comunque se andiamo a vedere la classifica dell'evento multicipi del Gacce vedete che gli italiani se la giocano molto bene e ci sono delle posizioni in classifica molto alte. Considerate che io con il 44 se non sbaglio ero undicesimo dodicesimo all'evento del Gacce e quindi tutti quelli sopra di me hanno fatto posizioni tra il 100 e andando in su. Si è qualificato bene anche Alessio che è sempre del team Blue Eyes e questa volta per la prima volta negli eventi 5 pollici sono riuscito a partecipare all'evento con altri membri del team in particolare appunto Alessio e Luca del team Blue Eyes che mi hanno sempre aiutato nel racing e mi hanno sempre anche aiutato a migliorare e a capire come investire il tempo per poter arrivare a questo che per me è un piccolo traguardo ma è comunque un traguardo. Per capire invece i tempi di persone che sono meno allenate nel racing per esempio Joshua Bardwell ha fatto un minuto e 12 secondi quindi capite che c'è un buon distacco tra chi si sta allenando e chi è molto preso dal racing e chi magari ci prova per provarci insomma. Mentre vi parlo vi lascio un paio di DVR ci sarà il mio, quello di Geek come vi ho detto e anche un DVR di Finz FPV che girava in pista con il Foxino 3 pollici. Se non sapete cos'è il Foxino ho un video a riguardo e ve lo lascio linkato in descrizione. Oltre al qualifier per avere un punteggio all'interno delle classifiche multi gp o comunque per essere un pilota dei multi gp si può partecipare anche a altri eventi sempre del circuito multi gp che funzionano in modo un po' diverso. Per esempio tutti i gacce gp che sono stati fatti nel tempo sono propedeutici a poter far partecipare gacce come associazione aeromodellistica al qualifier multi gp ma sono comunque eventi che seguono le regole degli eventi multi gp vi danno dei punteggi e creano una classifica e un circuito che è parallelo anche a quello che potete fare con ad esempio la DRF o la FAI. Secondo me come sistema di gara è un sistema che vi permette un approccio un po' più easy al mondo del racing e quindi vi invito a tenere d'occhio le pagine sia del bfc che di gacce per poter partecipare ad eventi che non sono magari qualifier ma sono sempre legati a multi gp e ripeto sono eventi che funzionano molto bene come rompi ghiaccio per il mondo del racing e infatti io ho iniziato proprio con i gacce gp. Lo svolgimento della gara è normato e regolamentato a livello mondiale come per qualsiasi altro tipo di gara fpv si ha la possibilità di fare delle lipo di riscaldamento in cui si vedono i tempi ma che non sono lipo ufficiali e poi invece per poter fare il proprio tempo effettivo e classificato abbiamo 10 lipo ogni pilota iscrivendosi al sito di multi gp riceve un qr code e un codice numerico e può usare questo qr code per prenotarsi durante la gara e inserirsi in varie hit. Durante la gara non si possono fare lipo di prova ma quindi quando inizia la prima lipo delle 10 poi tutte le successive che farete saranno le 10 ufficiali e il tempo migliore che farete in queste 10 hit sarà quello che vi porterà in classifica. Se ci sono altri eventi multi gp qualifier vicini a voi potete partecipare anche a quelli quindi io potenzialmente potrei partecipare anche all'evento del bfc e magari migliorare il mio tempo sempre però facendo altre 10 lipo nella stessa giornata e non più di 10 lipo. Questo sistema delle 10 lipo introduce anche la possibilità magari di prendersi un'oretta un paio d'ore di pausa all'interno dell'evento per mangiare con calma o anche per rilassarsi un attimo e fa parte anche quello della strategia magari riuscire a inserirsi in una hit in cui gli altri tre partecipanti sono più o meno del nostro livello per avere un po' un confronto o comunque per fare un po' di bagarre e spingere di più o anche magari scegliere una hit in cui ci sono piloti tanto più forti per vedere un po' le loro traiettorie ma soprattutto per farsi la gara più tranquillamente senza avere gli altri in pista perché chiaramente se io faccio la gara in un minuto e vado contro chi la gara la fai in 30 secondi avrò dei giri che potrò fare praticamente da solo. Questo anche perché la gara funziona con il tempo dei tre giri consecutivi più veloci. Cosa significa? Significa che il tempo non viene preso per esempio nei giri 1 2 3 ma può essere il tempo che ho fatto in 2 2 3 5 quindi magari il primo giro sbaglio un gate torno indietro per rifarlo e faccio un tempo che non è buono ma poi recupero con i giri 2 3 4 oppure con i giri 3 4 5. Potete fare tutti i giri che volete ma ovviamente la lipo vi permette di farne non più di 4 o 5 per quello che abbiamo visto durante la gara ma comunque è un sistema che è più permissivo secondo me rispetto al dove fare i primi tre giri giusti e quindi anche a quello che affrontate nel simulatore. Spero di avervi fatto capire un po' come funziona questo sistema e questo circuito di gare multi gp e ho fatto questo video perché avrei voluto vedere un video del genere quando non avevo ancora iniziato con il racing perché credo che capire come funziona il sistema sia un modo anche per sentirsi più pronti a partecipare a questi eventi che veramente creano tutta un'altra atmosfera e un altro significato dell'FPV. Al di là del fatto di avere questa classifica globale che vi fa capire effettivamente se i vostri sforzi portano a qualcosa l'atmosfera che si respira ad un evento di questo tipo è veramente molto bella si ha la possibilità di confrontarsi non solo in pista ma anche durante il tempo che si passa ai box con altri piloti con gente che ha comunque la nostra stessa passione e è un modo anche per capire come magari creare il quad che va più forte possibile per scambiarsi dei consigli sui PID sui filtri è un modo anche per imparare tanto e è un modo ovviamente per condividere la passione con altra gente che per mia esperienza ha sempre creato un ambiente accogliente anche per chi arriva e non ha le capacità effettive per partecipare seriamente alla gara basta avere un po di rispetto un po di comprensione di quello che è l'ambiente e ci si diverte sempre voglio fare altri contenuti sul racing e mi piacerebbe fare dei vlog però non è semplice e cercherò magari di farvi un resoconto anche della gara di roma che è la prossima se ovviamente vi interessa se avete domande e soprattutto se vi interessa questo argomento lasciatemi un commento così so che è meglio se investo un po di tempo in quella direzione allo stesso tempo colgo l'occasione di questo video per dire che se la mia routine di pubblicazione dei video è un po rallentata è perché mi sto concentrando un po su questo voglio riuscire a finire un po la stagione di racing e godermela perché ho trovato veramente un ambiente che mi dà anche motivazione nell'allenarmi e continuare a volare quando magari ci sono periodi in cui l'fpv vi cara un po spero che questo video vi sia stato d'aiuto se è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao